Non credo che sia stata una cosa così forte, perché è una cosa che si dice da sempre. Non credo neanche che volesse riferisse d'altro, ha messo a crozetto una persona di buon senso, equilibrata, seria, e quindi ha detto una cosa che mi pare, anche dai sondaggi che vengono fatti in questi giorni, mi pare che il 40% degli italiani la pensa in quel modo. Quindi non mi sembra una cosa sconcertante e neanche una guerra, voglio dire perché io personalmente, avendo presente che c'è una piccola parte di magistrati politicizzata, ma c'è una stragrande maggioranza dei magistrati che compie tra passione, dedizione e correttezza al proprio darato. Ho detto il contrario, ho detto che mi stupisco, che mi stupiamo. Io vedete che non sono crozettante, io quindi non so niente, non so niente. Il ministro quindi non è sul centro-destra? Mi spiegato tutto molto bene, di essere stata chiara nella mia esposizione e vi ringrazio per la mancata. Eh beh, certo, siamo italiani. Grazie a tutti.